Quando questi tre cuccioli di tigre sono stati respinti dalla loro madre biologica, questo cane ha fatto loro da mamma adottiva, addirittura allattandoli. Dopo più di due anni insieme con i cani, i cuccioli sono stati separati perché cresciuti troppo. Ma il loro legame non si è mai spezzato. Durante una tempesta, infatti, Lu era finita accidentalmente nell'area delle tigri, circondata da sei felini affamati. Tuttavia, i tre cuccioli che aveva allevato sono intervenuti subito per difendere la mamma. Da allora le tigri si vedono una volta a settimana con Lu, giocando affettuosamente insieme. Incredibile, vero? Grazie a tutti.